Lo sconvolgente e inaspettato evolversi degli eventi a Licata con lo scontro avvenuto tra polizia e abusivi e che ci consegna un bilancio drammatico di 5 arresti e 4 feriti ha indignato tutti. Ed è stata la triste risposta alla nostra domanda nel servizio andato in onda giorni fa e in cui ci chiedevamo cosa succederà ancora. Beh, onestamente non ci saremmo aspettati quanto accaduto. Immagini che non avremmo mai voluto vedere. Gente sdraiata a terra, arresti, feriti, poliziotti con i caschi. Gli animi sono ormai esasperati. Ed intanto su quanto accaduto a Licata interviene oggi la segreteria provinciale del Movimento dei Poliziotti di Agrigento che definisce intollerabili gli atti di aggressione contro i tutori dell'ordine. Riteniamo, sono le parole del segretario generale provinciale Alfonso Imbrò che il compito istituzionale della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine sia il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e quindi l'affermazione della legalità. I recenti episodi di violenza scaturiti dalla disperazione della gente ci addolorano profondamente, sottolinea Imbrò. Questo non vuol dire che taluni siano legittimati ad aggredire ed esercitare la propria rabbia contro le forze dell'ordine. Secondo il segretario generale, coloro che si sono macchiati di reati per difendere un presunto diritto non sono giustificabili. Imbrò si rivolge ai cittadini licatesi interessati dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria ai quali chiede di comprendere il ruolo dei poliziotti ed avere la coscienza che protestare pacificamente è legittimo, reagire con la violenza è un reato inaccettabile e sanzionabile. In questi giorni il segretario provinciale Alfonso Imbrò si è recato presso gli uffici del commissariato di Licata per portare il sostegno del movimento dei poliziotti democratici e riformisti e subito dopo dal questore di Agrigento Mario Finocchiaro, al quale sono state espresse alcune perplessità pur condividendo la linea gestionale dell'ordine pubblico in quel contesto lavorativo. La segreteria provinciale del movimento dei poliziotti nell'esprimere solidarietà ai colleghi di Licata, aggrediti e feriti, si augura che tali episodi non abbiano a ripetersi e annuncia Chiederemo al Dipartimento della Pubblica Sicurezza di potenziare i servizi di ordine pubblico nella città di Licata fino a quando i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria non si esauriranno. Soprattutto in occasione degli imminenti movimenti ministeriali, considerate le molteplici criticità operativi ad Agrigento e provincia, così da inviare un congruo numero di operatori di polizia negli uffici della squadra mobile dei commissariati di Licata, Canigatti, Porto Empedocle, Palma di Montechiaro e Sciacca. Grazie a tutti.